qui a farete siamo un po stravaganti e presentiamo peperoni che è una nuova platform una nuova piattaforma per gestire i contenuti per la trasformazione digitale di un'azienda quindi una piattaforma che ti permette di portare il tuo contenuto su molti device oggi abbiamo degli schermi dappertutto quindi noi portiamo il tuo contenuto su tutti questi schermi in modo simultaneo e soprattutto sincronizzati con un delay piccolissimo ciao a tutti ciao da 22HBG e peperoni ciao 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 ciao